L'ultima edizione di Stadionese, studio Marco Gullà. No suci, no parti. Rettorico dirlo? Forse sì, forse no. Fatto sta che l'attaccante rosa nera, autore del gol del pareggio a Polonia, ha salvato tutti e tutto, capitalizzando la superiorità del Palermo sui felsinei. Ma c'è qualcosa che non va. Non va ancora il motore di centrocampo liberani. Non vanno i terzini, non va in parte la difesa e non va l'attacco. Sicuramente tutto risolvibile, ma non in tempi brevi. Insomma, la squadra rosa nera ha ancora un campiere aperto. Domenica sera però si torna in campo per una di quelle sfide denominate di prima fascia. Al Barbera arriva il Milan. Riprende oggi la preparazione del Palermo in vista della gara di domenica al Barbera contro il Milan. Buone notizie per il tecnico Davide Ballardini, che per il match contro i rossoneri potrà contare sul rientro di Bovo e Balzaretti, assenti contro il Bologna per squalifica. Nessuno da verificare. Insomma, l'infermeria è vuota per la prima volta in questa stagione. Oggi allenamento alle ore 15. Succi gol, suci gol. Forse i tifosi rosenelli potranno aggiungere nel loro repertorio un altro coro. Quello parlato a Cantex Ravenna, che domenica scorsa ha pareggiato i Conti a Bologna. Chiamerà qualcosa? Non lo so, io spero, ti ripeto, spero di giocare di più, spero di affermarmi in questa società perché sono convinto che ho le potenzialità per farlo. Poi dopo è ovvio che le scelte non le faccio io e devono essere secondate. Spero che finalmente i tifosi del Palermo mi apprezzano per un gol fatto e non per quei due perché in città è così. Però in città mi trovo bene, i palermitani mi hanno accolto alla grande. Mi ricordo ancora, ho nella mente ancora quella partita che feci con il Genoa che quando uscì lo stadio mi fece un applauso bellissimo e di conseguenza mi trovo bene, poi un clima meraviglioso. Il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, affrontando il tema relativo alla questione arbitrale auspica una direzione equa senza condizionamenti domenica sera in occasione della gara contro il Milan. Sono molto preoccupato per la sfida tra il Palermo e il Milan a causa di queste polemiche ma sono fiducioso. Spero ci mandino un arbitro di livello per avere un arbitraggio equanime per tutte le altre notizie.